stiamo parlando infatti di cavalli atleti e come tutti gli atleti come l'umana hanno bisogno di per essere performanti hanno bisogno di una muscolatura decontratta ci credo che ti senti bloccato senti il calore sì che c'è molta differenza massaggiare con o senza sentito di quanto si sciolgono più in fretta va bene e la tagliate qui bene e sblocchiamo un po i glutei vedi almeno lavoro su due zone contemporaneamente bene perfetto pronto di qua e dai adesso meglio durante è stata abbastanza impegnativa questo sicuramente è un trattamento che aiuta anche nel lavoro per metterli più rotondi cioè per distendere l'incollatura sì sì per il movimento della gamba stessa della spalla stessa il cavaliere è colui che ha più bisogno di essere manutenuto di rivedere un aiuto una mano per recuperare il il gesto atletico sport specifico specializza alcune zone e abbandona altri questo squilibrio questo scompenso crea le patologie e i problemi se compensato adeguatamente preparato adeguatamente migliorato adeguatamente il fisico sopporta meglio gli sforzi va bene ragazzi è stato molto bravo grazie grazie mille ti ringraziamo ciao alla prossima